un saluto da bologna pilastro bella super tank saluto al pilastro raga io vi ignoro se voi scrivete le fredure in chat non so se l'avete visto allora master icon master icon electrocute ancora? non è il primo che becchiamo anche gin con l'electro su gin facciamo finta che worki su gin anche se non è vero però non importa abbiamo iriglia support la rompiamo come fa ad avvicinarsi ma poi come? iriglia support? in questo meta beh dai ci sta questo sarà un altro chocat full ap questo in capiamo in top boh è forte magari si si ma è veramente forte giocato full ap cioè non pensavo io non neanche lo sapevo usare ma no è afk giocato ma come? è al centro di solito quando uno è al centro è afk speriamo che non lo sia dai facciamo finta che non lo sarà noi andiamo per il conto nostro poi diciamo che è nostro premade vai anche se siamo già in due siamo tre premade noi improvvisamente eccolo eh io credevo in lui vedi basta crederci non dobbiamo nemmeno pullare covriamo un po' poi ci mettiamo qua davanti botta rio trolling no cosa glielo fa pensare ma è opso eh vedi va bene vieni qua vieni qua tutti preoccupati guarda come sono preoccupati aspetti un minuto qua tu stai lì tu stai lì le torrette del piazzo? forse dovresti partire di qualcosa no vabbè devi pushare devo pushare aspetta vai dove ti porta il cuore se sono premade sono buoni vinceranno da soli ecco ok facciamo tutto noi non vi preoccupate tranquilli ragazzi vinciamo noi per voi te ne arriva nessuno mi sa che è meglio se inizi a piazzare o beta non lo so sei pronto? un pochino abbiamo fatto è partito di stun Irelia è per colpa proprio bello support eh ma che ca... oh ma che è? è nessuno lo può fare dove vuole lei non avrei dovuto flashare che casino comunque anche loro sono premade eh eh sì sono chiaramente premade vabbè oh non avrei dovuto usare il flash l'avrei potuto usare dopo ma lei ha il 2 beh stai attento vado anch'io tu però hai il flash lei non penso di no sai non lo so non so dartela con te bella flamedorus dieci mesi di fila bro come stai? bella flamedorus da un po' che non ci si sente tutto bene grazie per il sub bro bella kill sui reni problema risolto aspetta mi servono i livelli ok ok ma stream mid attenzione ah i mid muoiono mamma mia il flash di kane però è ancora vivo in qualche modo ok ottimo poke ottimo poke è vero che ho il minion deathmite realizer adesso lo si usa bella flamedorus come mai hai l'esame per caso? no io resto ancora un po' mi servono 200 gold devo assolutamente comprare questo oggetto poke gratis subisce poco danno sinceramente ok che io non lo faccio però quanto ti serve di gold? ancora 70 quindi il carretto ecco però vado back eeeh ho un bel vantaggio direi ho già quell'oggetto che costa 1.3 lei ha la flask e la città di support lol con le scarpe e vabbè cosa strana non so perché è questo? non so perché è questo c'è la tutta ancora qua che attacca vai questo jasso is good it will be hard per me vive brand ah si guarda non vorrei che fossero già il drake boh ci sono più no ok no ma seria top ah boh erano spariti all'improvviso uh vai che la w che rally non può entrare in mezzo alle torrette penso io può care guarda lì i danni eh c'hanno una bella combo cazzo lì lì ha c'ho range altissima non pensavo madonna i danni ma cos'è la bombetta vuoi che ti push con il minion del materializer oh si se vuoi prenderlo tanto ecco subisco un pochissimo danno erano mai finito le flasche ma perché hanno questa qua per secondaria tutta due ah è vero ah c'ha c'erano il bomb plating lì sì regia ce l'ha gen non lo so però comunque gli dà più hp quella runa lì no il bomb plating è quello che riduce i primi tre danni forse l'hanno entrambio sì sì no però c'è proprio se tu scegli quel ramo di runa ah è vero sì sì poi c'è anche la runa tutto più hp anche quell'altro 900 hp 930 hp sì vabbè aspettiamo i funghi dopo ci divertiamo con i funghi this champ plus riot ah sì allora sì man luca tiaso guarda come ha scritto luca lock vuoi che push il carretto col mino di materializer sì sì dai così farmico anche tu sennò farmi i carretti eh ah comunque non sono non ingaggiano più questi bisogna pocarli a bestia sì sì ma infatti prendono il cazzo non è mica un problema purtroppo io non devo maxare la v sennò non faccio danno con le torrette ma tanto poi arriverà anche la v maxata su di loro ok ah sì non ho il 6 purtroppo c'è mastri lì io c'ho la Q per un terzo di livello mastri e c'è la ult andiamo via vabbè e mo ok ah c'ho la Q tra poco vai uuuh no l'ha apparato Yasuo cazzo l'ha apparato la Q eh sì se no l'ammazzavamo eh lo so che stanno tutti lì dentro non so mica stupido guarda Irelia come push eh non potevamo fare nulla purtroppo sarebbe morto mastri però la mia Q l'ha parata al windball di Yasuo sai e mi ha un po' rotto il cazzo quella cosa lì mi ha counterato ah sì ma Yasuo c'è sempre ultimamente contro di noi ma cos'è dobbiamo bannare Yasuo sinceramente no c'è il game di primo che l'ha vinto per altri motivi però questa è partita di scarpette per venire più veloce bot arrivo arrivo non aveva ancora usato la ottimo oh no vabbè flash shot ok 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 non ha vision fino a qua allora sono andato back allora ability power starto con l'ex stage e con l'oggetto potenziato qua poi aspetto i soldi per una control lo vediamo anche come sto farmando ah il mana full band è già a posto c'è c'è anche anche jinn c'ha bone plating sì sì ma immaginavo cioè subisce troppi pochi danni sto arrivando nooo che ci fa yosuo sempre qua ha flashato jinn eh yosuo coglione jinn ha flashato il rally è morto ahi è andato meglio di quello che pensavo ma mi son visto lì circondato dove sei bro ridi yosuo cosa mi jinn aspetta che voglio utilizzare un altro di questi ecco è stato un bel flash cool mio devo dire sono fiero di me mettiamo una bella control qui fine bone plating però gli abbiamo rotto il culo a questi eh sì oh double killing bot e giocate a p comunque avevi ragione però è p male è a p male non a p bene è a p male tanto in chat c'è solo casino cosa la leggo a fare non mi frega niente di quello che stiamo facendo noi parlavo della mia chat ma anche questa eh sì sì quella quella dello stream la sto leggendo anche io ogni tanto mi frega proprio un cazzo vabbè guarda non c'è mica problema allora livello 8 sblocco un altro punto di io basta adesso max ho la v cioè ho le torrette già a 4 direi oh di danni inizio a farm oddio mi distruggi le torrette ebbè ebbè non la v vai cloth aia ebbè ci si accontenta oro l'eco eco di luden 20% cd mi scrive su questo account chi è boh 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 non importa umberto non so chi è ciao umberto che un che tu sia tu non dirà nulla nel dubbio tanto questo guarda questo qua mi si avvicinerà all'ultimo perché ci sarà Irelia si aspetta che io lo chasi è la tipica botonegliosa con emerald pcarry tipica adesso è diventata tipica eh sì in effetti quando lo facevamo era un troll eh ma adesso è tipica abbiamo copiato gli altri eh sì no comunque adri lo sa bene è god tier adesso grazie a chi adri god tier grazie a me grazie al meta del cazzo no no grazie a me no no sono fin qui figli puttani vabbè oh si cazzo se l'aspettavano adesso chissà se danno quanti soldi danno i miei funghi non credo molti la lichbane sì lo so però preferisco l'udence adesso per quante la revolver è troppo forte ah vabbè la revolver sì purtroppo la lich bene all'inizio cioè soltanto con il pezzo eh sì non fa niente non è il massimo ci chiamano il drake vai andate vediamo un po' di ward nel caso ci fosse ovviamente non ci sono ok e prendi te lo pinga lui perché se no non glielo lasci eh mamma mia pronto? cerchiamo di fare qualcosa? vabbè se si avvicinasse vai che c'è 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 e no c'è ah sarebbe l'ho anche ignitato però un po' esagerato effettivamente no temo you killed me ma cosa hai fatto? non lo so vabbè l'hai ucciso evidentemente tu sei la tua vai ho la Q che volevo che venissi beh scusa ma è il ma il blind? il blind ah forse non l'ho tirata forse ha schivata DQ cioè il cooldown ce l'avevo subito in uova quanto ho di cooldown? 7 secondi no allora non l'ho tirata mi sono sbagliato magari tu la stavi tirando però lui è diventato intergettabile e te l'ha annullato il casting sì sicuramente eh Mr. Groby evidentemente l'ho tirato quando è diventato così infatti volevo che fai tarlo nelle torrette perché lo stavo indietreggiando cucendo Gina hai fatto uscire prima e morire ah allora sì eh sì è colpa mia volevo proprio ammazzare la Gina ha scritto che vabbè ciao ciao vabbè vabbè lo devi pisciare che ci può fare poveretto cerca di capirlo anche te eh sì ma se mi capita a me in game mica mi vado a scrivere ragazzi vado a pisciare cioè perdo più tempo se lo scrivo eh ma dopo sembra eh ma dopo ma tanto lui era morto quindi non c'è problema non era un link ma cari perché ha scritto e fatto punto uscire sembra e il botto lo rileva come un link ahhh 5-0 in top ok vedi è quello di prima che era noi è vero sempre lui proprio lui cazzo ma donna i danni che le faccio a questi ti prendo ti prendo ma c'è il nostro team che sta succando in tutte le lane dobbiamo andare a dare una mano in realtà brand è 4-2 però sì ah c'è il gatto è morto di nuovo ma era appena morto eh ha tippato ed è morto di nuovo eh sì ho visto è tornato comunque non c'è nulla di cui preoccuparsi qua 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 è andato off che Kane è morti tutti è il muro eh non mi può attaccare eh eh bel flash con il red l'ho ucciso allora mi fa impiazzare un po' di funghette adesso a sinistra ok ah vado back cosa posso comprarmi Ludens no però ci dovrei fare 400 gold avesse avuto il futures market però vabbè ci si accontenta eeeh prendo una contro da sto punto ma sti cazzi già ce l'ho piazzata perché devo buttare via i soldi sono in bronzo in silver insomma quella roba lì va bene ciao Axus fiere che ti amo sposami ma tanta gente che viene bannata in chat cosa succede? eh primo giorno di mod di Mr. Grobby deve farsi valere scusami ci hanno mica messo lì a far niente è un po' come a quelli che devono multare no? li pagano di più se fanno tot di multa allora devono multare così la gente a casa e lui è la stessa cosa c'è uno che scrive qualcosa che mi va bene eh e banno mio oh c'ho gatt è impazzaito ma gli danni su Irelia cosa gli è successo? sì Gnar è 5-1 però se sta parcheggiato in top non combina molto vai report oh report Yasur è ciò che volevo vedere 0-6 come si fa? no 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 arrivo io adesso uccidevo Ken di nuovo eh sì colpa tua è rischiato eh devi stare molto attento ah questo posto mi piace ma l'ho ignitato uccidilo non avevo skill eh tripla sa che ti serve la zona eh sì eh sì col tuo bel torrettone allora gli altri non avevo la ulti perché l'ho usata prima su Jin eccola qua 0 seconda allora sto pensando c'è gente che si cura tanto in realtà no però il morello conviene però non so c'è Rabadon che è lì che dice eh ma io che fai non mi prendi cazzo con i miei 9000 ad ap come sta la zona forse sai che non so cosa buildare tutto va bene io vado in zona e poi vado di Rabadon direi che non va bene così soprattutto sono full ad la zona può essere importante poi c'è poi c'è un'altra rimane a casa sì dobbiamo difendere l'angolo rottura e l'angolo rottura con master non è facilissimo da farlo perché devi aspettare che finisca la Q quando è finita la Q intanto si fa altri due auto attack prima che gli arriva la tua quindi è un periodo che è difficile ma che fastidio che gli do oh bello quando ulta per scappare ma GG ulta per scappare venivo io ma vedi cazzo che bel champion che team siamo in posizione ma che roba è devi piazzare la tua roba sta piazzando sta piazzando eh no vabbè sul muro l'ho blendato l'ho blendato io ho acceso il jasuo bravo ho fatto niente occhio eh me ne vado me ne vado aspetto che mi ricarichi la vita a red aviso rip master ecco inizia l'angolo tuo ragazzi get off my lawn si adesso servono le pink effettivamente io non ce l'ho tu non hai il trinket rosso effettivamente eh vabbè dai in qualche modo si fa che altro è il muro di jason eh sì che è un po' problematica andiamo a baitarglielo tanto lui lo fa la prima skill che arriva lo fa cioè io tipo vado lì tiro la culo lo fa subito anche brand si è unita bello ha flashato oh muore è morto vai angolo orture non passa nessuno si cosa è morto del mio veleno con l'aeri dovresti mettere tipo i funghetti anche qua se ci arrivano ti fai i funghetti sopra i funghetti che rimbalzano dove devo metterli hai detto non ho capito è tipo qua dietro perché loro da lì attaccano la torretta che è qua esatto va bene dai oh ecco fatto non si può entrare nell'angolo orture lol campers i camper anche brand si sta divertendo oh che è successo vai raga no perché vai là e vabbè e dovevo farle anche la ecco va bene hanno troppa favore di venire qui niente non si può entrare nell'angolo orture guardalo con la duskling a togliere i funghi niente qua non ci arriva mai nessuno è troppo tattico quest'angolo l'angolo orture è invalicabile c'era il trinket rosso si ci passa più nessuno qua basta hanno già finito di giocare si io uso il trinket rosso basta la pacchia è finita come dice salvini la pacchia è finita mi arrivo dai funghi fino a lì no ci arrivo fino a là caro che paura che lanciano le skin qui ormai non pensano più al resto della partita pensano a noi guarda col trinket rosso vai vai riempi il cazzo fagli capire che non si può entrare sono un po' più intelligenti di quelli dell'altro game però c'è da dire questo sarà che su un altro account silver è gnar sta tutto il tempo oh Yasuo top ma qualcuno se n'ha accorto e ci danno a Kayn bravo Kayn bacio bacio Gat prendi quello tanto nessuno ti contesta sono tutti nell'angolo rotture eh ah eh non avevo la buca si aspetta fammi togliere la ward dov'è qua eh bisogna riprendere la pink eh si però che se ce ne andiamo ce li farò con tutti i funghi eh si cioè per carità si rimettono eh però però sarebbe bello tenerli insomma tutta la fatica che ho messo che ho fatto per metterli gli altri forse adesso non conviene metterli qua perché se no non vengono più qui e non riusciamo a prendergli con le altre skill ma tanto non ci verrebbero lo stesso cioè quello fa eh attaccala eh cazzo non stavo guardando vabbè che tanto me non mi vedono però eh no eh vabbè vabbè le ho anche di quelle belle quanto per una ward quanto fatica quella la vedono no non la vedono no è una sciocata che sta bello lì e tanto non attacca nessuno aspetta che c'ho il trinket via ecco noi lo stiamo difendendo è l'angolo rottura infatti eh e questo ah non ha capito proprio un cazzo vieni qua vieni qua ecco via sparisci quindi ragazzi che facciamo? giochiamo o non giochiamo eh? da quanto tempo che stiamo perdendo qua vabbè anche noi però c'è King che è scritta top gg eh no non faccio danno a quel gnar oh ancora non siamo morti eh eh cos'è che mi stai fulla? ah ma ci abbiamo l'ossian? mamma mia due ossian abbiamo gg cazzo ecco perché siamo in realtà c'è la brand che ricopra 21hp al secondo gnar raga noi stiamo qui eh mica ci muoviamo anzi ho anche livellato guarda via su aspetta valutiamo se possiamo ma si dai ah no no guarda cosa stanno facendo oh ma te ne vai un secondo? eh guardalo guardalo che figlio di puttana eccolo l'eroe ah si sono messi d'accordo tutti insieme e ora arrivano e noi facciamo stagio e noi facciamo stagio non ci vica problema eh bravi bravi this team is useless oh mio dio you camp just camp presto l'angolo ci aspetta non so se esistesse il camping anche sull'hall aspetta vai vai pensavo che l'unico camping forse è quello del jungler invece e invece andiamo back si ho 3000 devo prendere la zona e anch'io ho quasi 4000 prendete anche il trinket rosso e la control si si allora ability power cosa possiamo prendere ah tipo un rabaddon intero va bene ecco qua aspetta però se prendo la control non serve il trinket rosso prendo due control perché così gli piazzano le le world qua si si giusto vai vai io ho preso il rabaddon invece è diventato code call of lul guarda ci stanno togliendo tutti guarda quanti funghi si becca sono arrabbiati non vogliono più ripetere l'esperienza ma stiamo tornando più forti di prima aspetta che non c'è niente adesso quindi non so cosa faccia però mi fa male però l'ho ucciso è buono anche quello si che è buono anche quello aiuto piazza piazza le torrette ma che cazzo perché ha fatto quel dash strano? loro non capiscono il fungo c'è qua oh ci sono i funghi qua 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 no cazzo cazzo purtroppo non ho il tp tanto adesso c'ho lo ma se mi tipo butto via l'ex e c'è revolver mi faccio la cosa dell'ozonia secondo me è worth guarda cosa ho detto brand l'avevo detto che questi due sarebbero state una terribile botta c'è il blu quanto cooldown reduction hai? 40 tu invece? anche io 45 bella my goal grazie mille per il sub e benvenuto alla felix army bro grazie mille sono felice che alla live ti stia piacendo spero che questo angolo rotture sia di tuo gradimento perché insomma cioè chi è che non apprezza l'angolo rotture? vai prendere il bio che fa comodo cioè loro potrebbero benissimo ignorarci però ci danno del camper siamo dei camper per loro capito? togliere togliere basta sono tornato a dettare legge vai vai ma adesso c'è la pink come fanno? non funzionano queste world sono tarocche anche i nostri compagni tutti a difenderlo l'angolo rotture ecco fate gli astas per pushando top questo angolo rotture ragazzi sono sono spettacolari è troppo divertente abbiamo inventato l'angolo rotture su lol ragazzi chi è che è detta il meta qui? ma poi prima o poi lo capiscono che devo soltanto splittare si si vabbè ma se andassi prende l'inibitor top io? vado vado in silenzio non dirlo a nessuno no 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 ciao ragazzi prendo l'inibitor top aiuto no quello è niente eh cazzo potrò killarmelo senza jing guarda quanta vita no mi serve lo zone assolutamente cazzo ah youtube ci fa la mid eh lo so ah per trust e i nostri all'altri cioè ok sono divertenti però non hanno capito che non devono stare qua L'unico che l'ha capito è Kayn Che infatti fa un po' i cazzi suoi Sai che ti dico? Io vendo il coso dell'Extech Tanto me ne frega un cazzo di uparla Cioè bisogna aprire gli game per fare tanto danno Prendo lo Zhonya Prendo due control anch'io Quando avrò Rabudon andrò back anch'io L'ha capito Eh purtroppo io non ci sono Sta arrivando Oh Wajin Cazzo fai? Se riesco a intercettarlo Cosa fa questo? Eh c'è un Gino lì Bravo Kayn non morisce Kayn prendi tanto ormai sei morto Vai bro E invece Arriva all'angolo rotture Vai prendiamo questi inibito Andiamo anche Prendiamoli tutti Eh così dopo non arrivano più Perché è un defender Anche quello sopra c'è Lo faremo nella loro base l'angolo rotture Ci spostiamo sempre più avanti Sì sì Guarda che cazzo Che siamo gli e te Diamo solo fastidio Quante malattie S'hanno avvenute questi Ecco Oh mio dio Eh cazzo me l'ha No Mi hanno shottato Non ho premuto la zona in tempo Mannaggia Mi sei salvato Fuck Eh quello lì ha molta magic resist Quello sì È molta Quel che basta OMG e aim Che ci vuole? Torrette Zonia Sì Io purtroppo l'ho fatta Ma hanno veramente scoppiato Il problema è che io non faccio in tempo con No però muore lo stesso Horror Rabadon però Vai Il problema sai qual è? È che io non faccio in tempo A A tirare la Q Il blind su Mastery perché Lui mi fa Q E doppio auto attack Cioè se lo faccio prima Mi blocca di Q Altrimenti se lo faccio dopo Boh che gli arriva giù Mi ha tirato 58 attacchi Dunque l'attack speed Quindi devo tirargli lo prima Che faccia la Q Però Stai guardando La clip La pink Delle pink Quando hanno messo Mille word Fila Vediamo se andrò a togliere Proviamo ad andare nell'angolo Rotture top Eh possiamo andare anche top Sì Così gli impediamo di andare al Baron Cambiamo angolo rotture Però non ho la pink Ah ce l'hai tu Ok No 2 No 2 Eh no Eh no Eh no Ah 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 Mi stai retta questo spazio Malattie Can you finish me? Vabbè cose Can't see this team anymore Yasudo 15 Bella Chuck Madonna Chuck Tu ti sei perso l'angolo rotture Ti sei perso l'angolo rotture Della leader Lì sta partita Cazzo Eh vabbè È tipo bellissimo Una bellissima L'angolo rotture diventa La nostra meme Ragazzi Divente Top damage Una volta a sera Bisognerà fare Una volta a serata Ci sarà l'angolo rotture Bella Lozart Centro non ci puoi uscire No Chuck Tu non hai idea Cos'è l'angolo rotture Ti metti Nel Nel muretto Dove c'è il passaggio Nel muretto Della base nemica Con Emmerdinger E Timo E riempi tutto Di funghi E torrette E La gente non si può avvicinare È uno spettacolo Ma poi C'è stato Il team fight Con